Caorle è una città marinara e vanta una flotta di pescherecci che tuttora conferiscono il pescato fresco al mercato ittico comunale. Il porto peschereccio di Caorle si trova oggi nel rio interno e accoglie tutti i pescherecci che arrivano dopo la battuta di pesca. Qui il pesce, come orate, branzini, seppie, moscardini, viene venduto grazie al metodo dell'asta d'orecchio. Oltre alla tradizione del mare troviamo nell'entroterra le aziende che propongono i prodotti di terra. Vuoi conoscere qualcosa di più? Sfoglia il nostro Gusta Caorle.